fammi vedere ti vedi perfetto no no si deve dare la sedia si deve dare anche la sedia però aspetta un po' giriamo un po' in un video tagliamo Hitech e diciamo guarda che buona pubblicità Hitech ecco la mia ci sponsorizza vai ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo in presenza di un graditissimo ospite come avete visto magari da Telegram o da Instagram presentati ciao io sono Remitz Kessy dei Vegas sono Antonio e questa sera sono qui grazie all'invito di Elytra allora qua oggi andiamo a fare uno spacchettamento abbastanza importante ragazzi soprattutto per la famiglia dei Vegas come ha detto lui è la dei Vegas i Vegas poi vi spiegherò per bene chi siamo e cosa facciamo ma quello che andremo a vedere oggi è un computer usato dal valore finale di 300 euro andiamo a vedere come si comporta nei giochi ma soprattutto questo computer che sarà il suo come si comporta su CSGO prima di andare a spacchettare questo pacco vi spiego brevissimamente chi sono i Vegas i Vegas siamo 5 ragazzi Vincenzo ciao ragazzi io sono Foculid90 e sono un membro del team Vegas vi come Vincenzo è il mio nome reale e vi invito a partecipare con noi quasi tutte le sere su Twitch alle nostre live insieme a Elytra Gaming ciao ragazzi Eliseo Gabriele tutti i follower di Elytra Gaming io sono Gpciulo94 la G di Vegas dove G sta per Gabriele e mi raccomando i primi tre round si perdono sempre Antonio e Stefano amici di Elytra Technology io sono Stefano è il Fire dei Vegas e benvenuti sul canale mi raccomando seguiteci tutte le sere in live su Twitch e sottoscrivete buon proseguimento l'ultimo acquisto è stato proprio Stefano che ci ha mandato questo pacco noi tutte le sere siamo in live Stefano grazie tagliamo Stefano lo trovate in descrizione no sto scherzando cosa è successo noi tutte le sere siamo in live su Twitch o su Youtube e giochiamo streamiamo su CSGO lui sta giocando dov'è il computer è di là aspetta che nel frattempo controllo la pizza ora vi facciamo vedere un attimino lui con cosa giocava eccolo qua ah però non è male pensavo peggio allora è un portatile con cui va bene è l'interno che non è buono ah vediamo un attimino che c'è in realtà innanzitutto vabbè Windows 8 quindi grazie ne è utile ah non c'è scritto niente ok ora la accendiamo andiamo a vedere prima di tutto questo quanti FPS fa su CSGO e poi andremo a vedere il suo nuovo PC quanti FPS fa prima di faccio vedere il mouse da gaming ragazzi che è ancora con la rotellina no scherzi a farlo allora prima di andare a fare l'unboxing di questo pacco andremo a vedere per la prima volta probabilmente su YouTube Italia non lo so il boxing di questo pacco quello qui solitamente si fanno video di unboxing noi invece quest'oggi faremo un video di boxing questo qui infatti è il PC del grande Remitz dei Vegas e stiamo per impacchettarlo per la spedizione di questo per la spedizione a posto ci vediamo per l'arrivo in destinazione nel frattempo che cuoce la seconda pizza io siamo troppo emozionati tutti e due di ricevere questo pacco lui di riceverlo personalmente e io di aprirlo con lui a te l'onore ed ecco qua ragazzi un portatile che ora andiamo subito ad aprire ea spacchettare vediamo cosa c'è dentro ma soprattutto prendo l'elenco per vedere cosa c'è dentro perché ce l'ha scritto stefano ma in realtà non lo ricordo cosa abbiamo qua all'interno di questo pc come potete già notare abbiamo come alimentatore un master watt 700 light ragazzi non è sicuramente il massimo degli alimentatori ma è comunque un alimentatore che talmente a breve lo cambieremo ma va più che bene per questa configurazione comunque 700 watt e ne andremo a sfruttare veramente molto molto meno abbiamo un intel core 2 quad un q 95 50 quindi ottimo per giocare soprattutto i livelli di giochi che facciamo allora abbiamo quattro banchi da 2 gigabyte quindi abbiamo 8 gigabyte di ram per poter giocare assolutamente a qualsiasi tipologia di gioco una splendida scheda video gtx 760 da 2 gigabyte poi abbiamo un lettore cd poi abbiamo un hard disk da 500 gigabyte controllato e anche un ssd 750 evo da 256 gigabyte abbiamo fatto un calcolo più o meno per capire un attimino nell'usato quello che il valore totale siamo arrivati a circa 300 euro come vi dicevo tutte le sere siamo in live sia su twitch che su youtube e quello che stiamo facendo è recuperare questi 300 euro in effetti questo pc stefano ce lo ha prestato tutte le sere che siamo sia su twitch che sulla su youtube andiamo a chiedere delle donazioni nelle donazioni da un euro 2 euro e 5 euro siamo arrivati a 15 euro quindi pian piano ce la faremo con la costanza ce la faremo ad arrivare alla cifra di 300 euro per pagare questo splendido pc usato di 300 euro per poter giocare ora andiamo ad accenderlo andiamo a vedere soprattutto prima come gioca lui attualmente con il suo portatile ma soprattutto poi andiamo a vedere questo fisso come va nei giochi soliti ok facciamo una piccola pausa pizza ragazzi nel frattempo che stiamo mangiando questa pizza buon appetito ragazzi ce n'è altra e ce n'è altra che sta cuocendo quindi abbiamo da mangiare per questa sera non vi preoccupate per noi allora remix quando vuoi possiamo fare la prima accensione tanto ma come ti senti giusta su sta sedia ragazzi è bellissima e comodissima devo dire che è una delle migliori che ho provato quindi vuoi che l'hitec te la mandi io aspetto mandatemi una poltrona vi faccio una ricezione non per la differenza dei due mouse il vecchio e il nuovo anche se quel nuovo sarà il mio non il suo ma il suo sarà questo questo sarà il nuovo mouse di 3 mix adesso non voglio vede niente voglio vede come giochi torna c'è ragazzi ma si può giocare a cs con 15 fps ragazzi e non so veramente come fa a giocare non ho proprio idea come faccia a giocare perché veramente troppo cioè premi il tasto del del mouse però ora sono 20 l'ho ucciso ragazzi headshot no però puoi giocare solo con il nager puoi giocare perché minimi di cima colpi beh ragazzi come avete visto ci siamo abbiamo fatto un upgrade da 300 euro e con 300 euro abbiamo recuperato dieci volte gli fps del suo vecchio portatile fps che però sul vecchio portatile era un gioco csq solamente in hd quello abbiamo provato sul full hd quindi la differenza è veramente netta la differenza di prestazioni con una gtx 740 quindi remiz l'ho visto pienamente soddisfatto a giocare infatti ora vogliamo chiudere tutto sono le 10 perché deve scappare a casa perché questa sera dobbiamo andare in live dobbiamo andare al live e streamare grazie a te è stato veramente un grandissimo piacere ragazzi mi raccomando iscrivetevi su twitch sul secondo canale youtube veniteci a seguire semplicemente con un mi piace con un commento ci farebbe veramente piacere vedervi o anche per chi vuole anche con una donazione per poter diciamo portare avanti questo progetto quindi ragazzi buonasera a tutti grazie per aver seguito e non lo so se lo vedete di mattina buona mattinata buon pranzo buona cena buon tutto mettete tantissimi mi piace a questo video iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti cliccate sulla campanellina e mi raccomando forza vegas ciao ragazzi ciao